Sesto Cile, c'è il filmico Francesco Sedele, Vito Sinone. Tema c'è tre scuoli, c'è l'insegnante, infatti, la quale ho fatto guardato qui, bella signora, c'è un po' di insegnante, i ragazzi non sono potuti venire per i vari motivi di scuola, insieme, siamo in un'unità di giorni, però oggi abbiamo lavorato, c'è un po' di insegnante nella scuola, ne abbiamo letto soprattutto articoli giornali, riferita di straccia di stagione di segno, in discorso, come mai questa nuova così diffusa, anche se i ragazzi sono 15, 40 nezano spesi, molto bene. Allora, ovviamente, secondo un classificato, poi, ma anche lui, purtroppo, Giovanni Staglucce, che è stato il terzo accidente, che è stato un po' di insegnante, 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 ma gli abbraccio a voi. Primo classificato, saluto! Allora, sono felicissima di amiciare, che si tratta di una facciulla, e di una facciulla, una facciulla, una facciulla, una facciulla, mi chiedeva, mi chiedeva, mi tiene un po' di insegnante, che è stato un po' di insegnante, che è stato un po' di insegnante. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti